Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Ruffox24 e oggi sono in compagnia di DJ Combine e Davide 95 e siamo su Left 4 Dead 2 nella mappa Tour of Culo di Davide, no scherzo, Tour of Terror e siamo in modalità facile perché non l'abbiamo mai fatta questa mappa veramente io e te vabbè te ma c'ho un vino quindi ma c'erano gli sarmi primarie ma ve lo scordare no, qua no che cazzo di schifo combi qua dalle frecce combi qua dalle frecce si, guarda qua ho trovato molli e pillole molotov e pillole, c'è un'altra molotov, lo volete? eh già ce l'ho si no, qua no ma qui mi parte che si chiude da naso dove cazzo da? poi mi ha tosto abbandonare lo scelgo che protegge la cacchia ho sentito un pill steer io c'ho l'adrenaline spittare di mezzo sicuro che si va d'acqua che cazzo butti? non mi ricordo si aspetta fammi vedere cosa c'è si, fammi vedere cosa c'è qui ma gli zombie muoiono senza che li ammazia ah no, si è sdraiato noi oh, una stanza, una sposta oh, l'aspettate voi due, va, 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 guarda dove stanno già eh ma se tu ti metti a guardare galline che cacchino non è cacchino un'altra parte un shot, un shot, un shot eh, shot, un'altra parte il cuno, però ah, papà, papà, senza affetto, però ma dove si cazzo si va? sta parte ma perché non si greppano non si aprono tutte e due, domini prima un o l'altro rossella che cazzo fai? oh, uno da tipo arma qua che c'è acqua molle, là, come si chiama vabbè abit e non lo scioglio andiamo prezzi ho scelto la propria c'è un defibrillatore non lo so dove siete vedo le auree le auree ha un'aurea potentissima cosa aurare potentissima cosa io però questi stanno invettando pure il bagno che schifo da vera davide vendite le piccole non veda niente tutto oscuro questo bucato che cazzo a lunga i giochi i zombie che si fanno la doccia l'onest o c'è una moda sega che lavora no no io no e davide mi taglia a me invece di taglia oh e da minghia non mi spara pure a me dio santo eh mi sembri uno zombie eh il zombie la minghia con quel calino o attendi a non garaia oh finisci la mia dove si va dove sono le fregge ah no da qua no da qua che schifo qual'era col culo di fuori e boomer di merda dove cazzo è il boomer ma qua bucce una molotov bucce una molotov non vedo niente attenda rachel piovono zombie dal cielo i zombie rincoglioni di che schifo da che cazzo che cazzo chi è che ho fatto a pd da rossardia dal salvato e da non mi taglia minghia dare mi chiese due palle minghia qualche c'è vittore kit americo no non c'è non bisogno la tarnica no no si va già aspetta da cazzo si va aspetta aspetta foto da qua no qua qua dove sta venuti aio to cazzo si va ah qua mamma qua qua or biazze la cazzo si va instant kill oh me pipe bomb no si va d'acqua qua c'è il coso della heineken merda si stavo dicendo pubblicità occulta oh e salvatemi dio santo mica t'ho salvato a grazia al boomer invece di dire giochi a destra dicendo pubblicità occulta pubblicità occulta ahahah tank dov'è sendi trema tutto ma che esso no io non so niente si ma vedi che si muove tutt'ama cioè si muoveva no 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 non ce n'è non ce n'è no non sparare qua mi preoccupa però guai se dice lo so io che sto ma dove si va ah là dentro sei faust sei faust under fuori campo fuori campo billy ma tu sei sempre morto billy sempre morto dove il cazzo si va dove si va da qua 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 presto vieni giambi vieni giambi cazzo rochelle ho preso la benzina ok ho preso la benzina bravo si bagga quando ci scommetti quando ci scommetti forse no perchè l'ho messo sotto a scrivere eh cosa ci nascono quella volta perchè non ti ricordo in quella mappa che sarà baggata che prendeva fumo io non c'ero come no ah si 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 quella la di le fordette se ma tu l'avevi messo sulla perbola si è sul cornello e aveva preso fumo aveva preso fumo chi vuole cibo per cani aspetta a me non mi è entrato ancora ah vabbè a me è normale a te dai normalissimo ecco ah eccola dov'è qua qua c'è kit medico non c'è niente dog food chi è sto che qua bish beh andiamo già invitando davide ci raggiungerà ah si me la ricordo sta parte grande davide da fuoco a tutto qua abbiamo ucciso un po' di zon eh infatti ho detto bravo ok anche questo mi ha attraversato molotob 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 se vuoi una bella poca cola più che molotob ok andiamo di qua chargers eh charger minchia minchia che vuoi che vuoi e mb vl non mi ha fatto finìun ho aspettato E' il tanko, ci penso io Si, si sente Ah, va, sul pilastro, grande tank Il tank equilibrista Grande, su Omi da Anzi Stai fermo se non vuoi che faccia casino La scelma, che è qui Debra, no, zombie non sparare a quel cangello Non sparare a quel cangello Questo Eh, non lo sparare Non c'è niente Oh, c'è un'altra Anik Oh Come si fa qua? Oh, venite qua che c'è L'orda Attivo Aspetta E ci dica aspetta che quello attiva Eh sì, quello è nel frattempo che si attiva Uuuuuh Oh, iiii Aaaaaa Ma ma da dove si apre? Dai, quella centrale ti apre C'entra... Oddio, sto dicendo un astronauta Ho avuto Spieters Spieters Attento ai cobi Jockey Jolly Jolly Dove cazzo è? L'avevo perso Merda qua... Ah, vai, zombie, spara Fai il rambo della situation Perfetto, 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 perfetto Anker sento No, veramente non lo smoglio Ragazzi, non lo smoglio Ci puoi già partire? Ci puoi già partire? Ci puoi già venire? Ci puoi già venire? Cazzo, roccelle Che palle, salvate Cialciccione, roccelle Ma dove si va? Da qua Eh, dalla stessa spalla, credo No, 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 qua Pa, 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 pa Venga, ma qua c'è, ci sono elicotteri Ah, miseria Ci mancano solo i treni Mi piace ogni treni I like trains Ma per dove? Sì, qua Sì, ma va Non so che la porta aperta L'altra motosega Ah, no, qua si deve andare la La, la, la Dove? Vieni, vado a prendo fucile Ah, è vero no da sopra no devi andare da quella danger hunter come cazzo mi ha preso cioè ha strisciato quando mi ha preso no mi sa che forse si deve attivare qualcosa merda giochi aiuto e davide muovi ah qui 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 nella casa del terrore ah zombie qua vieni cazzo quanti quanti zombie wow 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 attendo che qua si cade sembra la mappa la dei simpson dove c'è il cosdo scivoloso sblop wow che cocci che si gasa con questa motosegla wow qua non sembrano le scale di minecraft fa impressione non mi viene mi viene al mal di testo fermo fermo ma che voglio cittadino quanti ho fatto grande ciò ma si vede in acqua vero portale c'è un'altra volta che ho sentito no o come ti dò lo trucchi a davide con i o questo è chiaro sceglie la carta per comprensare david a roscella apprezzato come curato spettami rochelle lascete stare papaparapa quando sangue che schifo ma vogliamo parlare ma vogliamo parlare un po' dai cazzo ma questo zombie che schifo davide che salta alla matrix cd la cazzo c'era oddio non mi chiedo e ce l'ho tempo per cento sessanta un migliore faccio ci ha fatto cazzo aglio c'è acqua oddio muoio s'affogato per dove si va ma poi cazzo non so non sa non luotare oh mi so bloccato oh mi so fregato ti ho fregato il macete vabbè non mi hai lasciato ammazzare ai petta witch ci penso io dai dai witch fermo alla fermo dov'è dov'è almeno no ma cazzo saliva ma avete visto gigni la cazzo a cazzo a cazzo la città aiuto ma muoio voglio prote anzi no whatsapp. su via gaio che proteggo oh desert eagle chi la vuole merda c'è un charger figlio di merda fatemi cura nato rachel con uno di vita c'era un cazzo di charger in casa non chiuderla a parte con ok poi il mara scella no non la chiudere io mi sto curando un 77 di vita eh no non ne spreca agito ma mini laser non ce ne so eh davide che ha fatto più danni al tank 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 ma guardi eren di sparte pum 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 si tu eri distante si io ho visto mi so mi so goduto solamente la scena mentre ciò mi fa giova i believe i can fly no ma l'arresto dovevo fare il charger si con charger ha preso inizialmente me poi ha sbattuto anche cobi e ha fatti birilli che c'era